Mi trovo in via Deledda Taranto al quartiere Tamburi, già un quartiere martoriato, flagellato per le note vicende dell'ex Silva, ma guardate un po', credetevi, mi sono stancato di ripetere sempre le stesse cose, perché passano non gli anni, i decenni, ma nulla cambia. Questa dicevo è via Deledda, quartiere Tamburi, vedete lì quella che era la struttura appartenente all'Inail, completamente abbandonata da decenni e decenni e vedete tutto intorno, ci troviamo qui vedete proprio alle spalle delle famose coperture a caricatura dei parchi minerali, ma questa è una triste parentesi. Guardate qui in questo spiazzo antistante la struttura ex Sinail, il degrado, l'abbandono. Vedete lì quel manufatto in pietra, doveva essere una parte di una grossa condotta, la vedete lì, completamente abbandonata, viene spostata da un punto all'altro di quest'aria sterrata, prima si trovava lì e poi è stata spostata lì. Sempre la stessa musica, ma ripeto non è solo questo tratto, andiamo, voglio farvi vedere altre follie che accadono in via Deledda. La settimana scorsa Acquedotto Pugliese ha fatto dei lavori, oltre al fatto che, guardate un po' come è stato rappezzato, molto ma molto male, proprio si è creato un dosso artificiale, ma al di là di questo, anche qui si sta sgretolando l'asfalto. Ma attraversiamo un attimo, anzi guardate, la ditta che ha eseguito i lavori per conto dell'Acquedotto ha avuto l'infelice idea di prendere il catrame in esubero, il catrame che era avanzato e l'ha buttato lì, nella parte sterrata. Tanto questa, si sa, è terra di nessuno. Caro Acquedotto Pugliese, questa non è una discarica, non si butta qui il catrame. Guardate, guardate, guardate. E guardate anche qui proprio la caricatura, ritorno, come è stato fatto il lavoro di rappezzo. Un dosso, un dosso, guardate qui. Un dosso. Acquedotto Pugliese, andiamo avanti. Qui sono stati messi a dimora degli alberi, degli alberelli e benvenga per carità. È fondamentale munire, armare, tra virgolette, di alberi il quartiere Tamburi. Ma nella messa a dimora degli alberi sono state ovviamente spostate, mosse, rimosse delle pietre e pietre e quant'altro prese e abbandonate qui. Perché si sa, via De Ledda e dintorni sono una discarica a cielo aperto. Si può fare di tutto, di più. Le ditte possono fare i comodi loro. Quindi il comune non controlla. Tanto chi se ne frega. Altra testimonianza di abbandono. Guardate, albero tagliato e non rimosso. Il tronco non è stato più rimosso. Abbiamo attraversato la strada, pochi metri da via De Ledda, siamo ora in via Orsini e qui un'altra discarica a cielo aperto che sta così da settimane, da mesi. Per carità ci sono gli incivili che sporcano, gli incivili che andrebbero sanzionati, che andrebbero bastonati in senso metaforico. Però l'amministrazione comunale non ritiene opportuno andare a rimuovere tutta questa schifezza? Ma potremmo così continuare all'infinito? E sempre nelle vicinanze di via De Ledda, via Orsini e la via Perstatte. Altra discarica a cielo aperto. Tutto così abbandonato. Proprio sotto vedete la segnaletica verticale. Qualcosa di incredibile. Ditemi voi. ho voluto rappresentarvi proprio le criticità, lo stato di abbandono. Questa zona, via De Ledda e altre zone del quartiere Tamburi, sono come dire terra di nessuno. Ognuno fa i comodi propri e quello che viene abbandonato oggi poi rimarrà così, come dire, nei secoli dei secoli. Passatemi questa espressione.